Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi è dedicata alla vertenza Gela, incontro oggi pomeriggio al Ministero del Lavoro dove sono stati convocati il Sindaco Domenico Messinese ed il Presidente della Regione Rosario Crocetta per definire misure straordinarie sull'uso degli ammortizzatori sociali. Oggi al tavolo si chiederanno interventi concreti ed immediati. A Roma è presente anche una delegazione del Consiglio Comunale, ci sono anche alcuni lavoratori dell'indotto. Vediamo. Avrà inizio alle 15 la riunione al Ministero del Lavoro dove sono stati convocati il Sindaco Domenico Messinese ed il Governatore della Sicilia Rosario Crocetta per definire misure straordinarie sull'uso degli ammortizzatori sociali. L'avvertenza Eni dunque approda sui tavoli romani dopo la maestosa manifestazione di ieri che ha visto sfilare in corteo migliaia di persone. Oggi al tavolo si chiederanno interventi concreti ed immediati. A Roma sarà presente anche una delegazione del Consiglio Comunale ed alcuni lavoratori. La richiesta che è stata concordata al tavolo regionale di ieri e l'altro ieri è una richiesta chiara di attivazione delle politiche passive e attive di tutela del credito fino alla riconversione avvenuta del polo industriale. Questo significa far prendere la responsabilità al Governo sui processi autorizzativi e inerenti alla riconversione industriale in atto pereni, ma più in generale sui processi di riconversione legati al progetto di riqualificazione industriale previsto per l'accordo di programma dell'area di crisi complessa. Il Ministro del Lavoro Poletti deve farsi carico delle esigenze di un intero territorio immediatamente. Ci attendiamo che il Ministero del Lavoro con i suoi rappresentanti prenda in carico le proprie responsabilità e si faccia parte attiva nell'eseguire quelle azioni necessarie in un'area di crisi. Quindi di tutela al reddito per tutti i lavoratori, sia chi già gode di molti dettagli sociali, chi è fuoriuscito al mercato del lavoro, chi è perso l'azienda, quindi senza nessuna distinzione di sorta. Questo è il risultato più importante che deve uscire dal tavolo di oggi. La sensazione di serenità, perché devo dire che forse per la prima volta c'è un fronte unito che parte dalla Sicilia, costituito dall'amministrazione, dalla Regione, da Italia Lavoro, dal Prefetto, dai sindacati, che hanno concordato una linea chiara, semplice e facile da applicare se il Governo decide di prendersi la responsabilità di quello che ha creato con la sua politica energetica nazionale. Si chiede il lavoro. Gli ammortizzatori sociali hanno un tempo determinato. Siccome il lavoro non si crea dalla notte alla mattina, è giusto che loro possano comunque godere di un reddito minimo fino a quando questi candieri non partono. Siccome proprio quello che è mancato, sancito dal protocollo d'intesa un anno fa, era proprio la tutela dei lavoratori, intanto loro devono darci quella tutela che era stata concordata nel protocollo d'intesa e contestualizzarla alla data di inizio dei lavori. Quindi noi non vogliamo ammortizzatori sociali a scadenza, ma vogliamo ammortizzatori sociali contestualizzati alla velocità del Governo di darci le autorizzazioni per riconvertire il polo industriale. Eni ha ribadito la volontà di rimanere a Gela e di investire per uno sviluppo industriale eco-compatibile della città, attestando il pieno rispetto del cronoprogramma previsto dal protocollo del 2014. Carmelo Turco, delegato regionale di Confindustria Sicilia per i settori del petrolchimico e della raffinazione, e Rosario Amaru, presidente di Confindustria Centro Sicilia, intervengono sulla vertenza Gela che ha portato ieri in piazza migliaia di persone. Il sistema imprenditoriale, aggiungono, sta lavorando proprio per portare avanti gli impegni assunti e rinnovare così la sfida per il rilancio produttivo di Gela. In particolare, Confindustria sta promuovendo l'avviso che mira a far insediare nuove aziende nelle aree disponibili del sito industriale. D'intesa con Eni abbiamo avviato anche un progetto di aggregazione tra alcune delle più importanti imprese dell'indotto per rafforzarne la crescita imprenditoriale e quindi la competitività sia in Italia sia all'estero. In occasione dell'incontro che si è svolto alla presidenza della regione siciliana, dicono Turco e Damaru, è stato fatto un punto sulla situazione emergenziale che rimane pur sempre molto preoccupante, specie per quanto riguarda i lavoratori rimasti privi di tutele. Con senso di responsabilità da parte di tutti, sono però state definite le prime urgenti richieste da presentare ai tavoli romani e le azioni da portare avanti in ambito regionale. Occorre gestire questa fase di transizione garantendo subito le misure di sostegno economico ai lavoratori, ma anche accelerare l'iter autorizzatorio della bioraffineria di competenza del Ministero dell'Ambiente e quello per la conclusione dell'accordo di programma per l'area di crisi complessa di Gela, al quale, come Confindustria, si legge in una nota, siamo pronti a dare il nostro contributo propositivo. Nell'accordo di programma, secondo gli industriali, è indispensabile introdurre misure che guardino, oltre alle politiche attive e passive della lavoro, anche allo sviluppo del territorio, rendendo attrattivi gli investimenti in primo luogo attraverso la leva fiscale e gli sgravi contributivi. E ieri, come dicevamo, immensa manifestazione Gela in difesa del lavoro, erano presenti anche i forconi. Il leader, Mariano Ferro, chiede al Governo nazionale di non ingirocchiarsi all'Eni. Ieri Gela è scesa in piazza per rivendicare il diritto al lavoro, dunque, contro la chiusura della raffineria Eni. Anche i forconi hanno partecipato al corteo promosso dal Consiglio Comunale in difesa di un territorio. Qual è la posizione dei forconi al momento attuale, in merito a quello che sta accadendo a Gela? Allora, io dico una cosa. Intanto che se l'Eni sta dichiarando che sta rispettando il protocollo di indesa, io evidentemente penso che qualcuno quel protocollo l'ha fermato. Ora, che si rispetti il protocollo. E soprattutto una cosa, penso, che i gelesi debbano pretendere, l'operazione quella che secondo me vale di più, i gelesi devono pretendere al tavolo di partecipare a questo tavolo di trattative. Perché io devo dirti, per DNA ormai dei sindacati non mi fido più. Se vedo sfilare qui i partiti e i sindacati che poi ci hanno portato a questo punto, mi spieghi qualcuno perché dovrei farmi difendere da chi mi ha portato al disastro Gela. Quindi se c'è una situazione che va corretta è proprio quella. Questa manifestazione di ieri era la manifestazione di un'insalata di tutto quello che si poteva mettere insieme. C'era il PD, io ho visto il PD, ho visto i sindacati. Ci sono l'attuale amministrazione che è formata dai grillini. Però oggi penso che mettere tutto insieme non porta da nessuna parte. Forse bisognerebbe difendersi con tutti quelli che sono danneggiati di queste situazioni. Dico anche un'altra cosa che Gela non è solo l'impresa Eni, Gela è anche agricoltura. Bisognerebbe mettere insieme forse tutta l'economia di questo territorio perché sarebbe il caso di farlo. E dico che forse diventiamo tutti un po' più forti perché alla fine se l'Eni dichiara quello che ha dichiarato, se l'agricoltura sta andando come sta andando è tutta un'economia che purtroppo è incatenata e che non si muove e non riesce a sbloccarsi. Qui c'è bisogno di un governo regionale che governi, di un comune che si faccia rispettare e soprattutto c'è bisogno di un governo nazionale che non si metta in ginocchio con l'ene. Ferro, ieri però è tutta la città che c'è in piazza. C'era il clero, c'erano gli avvocati, le donne, gli studenti. Dobbiamo dire chi sono i colpevoli di questa situazione che c'è oggi perché se non identificiamo tutti quelli che hanno portato a questa situazione io credo che non ci capiamo, non risolveremo mai, cioè non usciremo da questo tunnel perché per uscire dal tunnel bisogna dire forse è il momento che tutta questa classe operaia che è sulle strade, che sta facendo i blocchi stradali pretenda di partecipare a quelli con una rappresentanza, con una delegazione, pretenda di partecipare ai tavoli perché altrimenti se dobbiamo aspettare le soluzioni da chi oggi le soluzioni al tavolo le ha discusse, le ha ragionate, le ha sottoscritte ma non le ha rispettate io credo che ci prendiamo in giro. Penso che sia l'ennesima manifestazione che poi alla fine non serve a nulla. Qui c'è bisogno che questa popolazione al di fuori dei partiti, tenendo fuori i partiti, tenendo fuori i sindacati si faccia rispettare in modo diverso. Come vede il futuro di Gela? Se non si arriva ad una manifestazione vera di popolo, quella che, ripeto, metta fuori i responsabili di questa situazione possiamo anche dirci che nel 2012 ci fu quell'operazione. Lo dico con grande umiltà, noi sbagliamo perché ci sedemmo al tavolo e ancora una volta ci facemmo prendere in giro da quella classe politica di allora. Se qui non viene fuori la Sicilia e non aspetta che qualcun altro, delegando i sindacati, delegando la politica che qualcun altro gli risolve i problemi, io credo che noi non usciremo da questo disastro. E adesso occupiamoci della vicenda che ha interessato un'azienda che a Gela avrebbe voluto creare occupazione. È stata bloccata dalla burocrazia regionale. In una città a Gela dove lavoro manca c'è chi aveva provato a crearlo. È il caso della società Eco Agri. Si stava progettando l'installazione di due impianti fotovoltaici per Serra in Contrada-Salleo per un totale di 8,4 MW su un'estensione di 170.000 m2, avrebbe dato occupazione a 70 maestranze ed invece tutto fermo per la lentezza della burocrazia regionale. Amareggiato l'imprenditore Angelo Sorinitro, amministratore delegato dell'azienda. I progetti che l'ha presentato a Palermo, ai vari assessorati, che fine hanno fatto? Noi abbiamo inoltrato agli assessorati i progetti via posta. Il territorio ambiente mi ha protocollato il progetto a distanza di 25 mesi, il 27 dicembre del 2010. L'assessorato all'industria invece di indire la convenienza dei servizi entro 30 giorni come per legge me la indice dopo 520 giorni all'incirca. Tre volte i progetti sono andati smarriti, quindi non si capiva e non riuscivamo a capire come mai i progetti andavano smarriti. In più mi hanno fatto fare delle procedure di impatto ambientale non dovute poiché in Sicilia vince una norma che è solo per la regione siciliana per la quale gli impianti serricoli su terreno agricolo non sono necessarie autorizzazioni. Ma non la fattispecie, essendo un impianto di energia rinnovabile era necessaria l'autorizzazione unica. Ma tra acquisto del terreno e progetti presentati, la sua società quanti soldi ha speso? Abbiamo speso 550 mila euro, soldi buttati che non abbiamo potuto ricavare nulla, io e i miei soci, e in quanto le lungaggini burocratiche, io non li definisco lungaggini burocratiche, io lo definisco terrorismo burocratico degli assessorati della regione siciliana, a partire dal 2008 a fine del 2011, data quando mi sono state emanate le due autorizzazioni uniche. Ho adembiuto a tutti i miei doveri, ma altrettanto la pubblica amministrazione non è stata all'altezza di fare loro il loro dovere. Visto poi dopo le indagini della magistratura della direzione riscettuale antimafia, che avevano sequestrato e hanno sequestrato 43 impianti riconducibili a prestanome di Matteo Messina Denaro, e quindi noi eravamo lì per far sì che mi si veniva autorizzato un impianto per la creazione di 70 posti di lavoro. Quindi l'unico progetto che all'epoca era il più grande d'Europa, che poteva essere un progetto, un fiore all'occhiello per la Sicilia, per lo sviluppo futuro, sia imprenditorialmente agricolo, e sia anche per lo sviluppo delle energie rinnovabili sul nostro territorio. Domani al Tardi Palermo l'azienda gelese chiederà conto ragione sul ritardo immotivato che ha contrassegnato le fasi di istruttoria del procedimento. È un suo socio, in riferimento a quello che è accaduto negli anni, si è tolto la vita. Sì, un mio socio a me mi duele il cuore per tutto quello che è successo, poiché ha creduto nel progetto. Non è possibile che in Sicilia stanno andando via tutti quanti, tutte le grandi imprese, l'Eni, la Versalist e quant'altri, che stanno scappando dalla Sicilia per la cattiva e la mala politica, la mala amministrazione, e allora quando noi siciliani un giorno ci svegliamo per fare in modo che dobbiamo essere noi, attraverso la nostra capacità, di fare in modo che la Sicilia rinasca con le nostre capacità, con la nostra intelligente, il nostro modo di fare, e poi ti vai a scontrare con la pubblica amministrazione che fa di tutto per non farti lavorare. Cambiamo argomento, ora parliamo della giornata della memoria, incontro nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo, è stato presentato il libro della scrittrice albanese Ismele Selmanai-Leba, vediamo. Si chiama Virginità rapita e il libro di Ismele Selmanai-Leba presentato oggi nella Lomagna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. L'incontro rientra nelle manifestazioni promosse in occasione del giorno della memoria, un impegno per il futuro, costruire un cammino senza crimini. Il mio paese, Albania, gli albanesi, durante l'armistizio, la seconda guerra mondiale, non hanno consegnato nessun ebreo e nessun soldato italiano, perché sono rimasti in Albania tantissimi soldati italiani e i tedeschi li cercavano per mandarli ad Auschwitz, a Mauthausen, non lo so dove. E invece la popolazione albanese, secondo la nostra tradizione secolara, la bessa albanese, non ha consegnato nessuno. Tutti questi soldati li ha vestiti con i vestiti da contadini e li hanno scosti dentro casa. Io di là nel libro racconto la storia di un soldato siciliano, precisamente, e per questo ho voluto fortemente che il libro si pubblicasse proprio in Sicilia, da una casa editrice siciliana a Bonfiraro, anche per questa ragione. Attraverso la cultura e la pubblicazione dei libri che poi parlano di queste storie e della storia in generale, è chiaro che noi andiamo verso quella che è la nostra libertà, la libertà di tutti quanti. Tutto quello che accade nel mondo e le guerre che accadono, accadono sempre perché l'ignoranza impera e quindi chi sa più degli altri può soffocare l'ambizione di molte persone che vogliono emergere in ogni caso. I saluti iniziali sono stati fidati ai presidenti del club service e al dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Questi ragazzi, attraverso questo messaggio, devono capire che cos'è la tolleranza, che cos'è il rispetto per la vita, e quindi il rispetto reciproco. È un messaggio che la scuola dà, che va oltre i contenuti, oltre la trasmissione degli argomenti. Quindi un messaggio di etica, che si spera venga acquisito e quindi venga anche messo in pratica per avere un mondo civile e un mondo di pace. Dobbiamo necessariamente trasmettere dei messaggi di speranza, ma ricordare anche quello che è successo, lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Per noi è un messaggio molto importante, e deve passare tra le nuove generazioni, perché abbiamo bisogno che i ragazzi ricordino questi momenti tragici della nostra storia. Sicuramente è una pagina da dimenticare. Però abbiamo voluto cogliere l'occasione del libro di una scrittrice albanese per ricordare anche il genocidio nel Kosovo intorno agli anni 80-90. Bisogna abituare i ragazzi a pensare in modo universale, a pensare in modo che siamo tutti uguali, senza colore, senza religione, senza politica, perché la politica è quella che rovina tutto. I ragazzi sono il fulcro del nostro futuro. E chiaramente devono sapere, dato che non sono stati testimoni dell'olocausto e di tutti i grandi genocidi che ci sono stati dal mondo, almeno per fortuna loro, perché abbiamo avuto delle generazioni che sono state fuori da guerre e che sono cresciute in bacia. Ma devono sapere quindi che in effetti l'uomo non deve scagliarsi contro l'uomo. L'uomo deve essere quindi al di sopra, non deve avere mortificata con la sua dignità. E queste sono giornate che servono proprio per la formazione dei nostri giovani. Che oggi veramente è la giornata del ricordo, della testimonianza di un qualcosa che è accaduto 70 anni fa, però che purtroppo si ripete. E infatti noi non ci siamo solo fermati oggi e non ci fermeremo solo a parlare di un genocidio terribile che ha calpestato i diritti di una razza intera, ma anche allarghiamo il nostro sguardo ad altri fenomeni, ad altri genocidi. Ha moderato i lavori la giornalista Fabiola Polara. La lettura dei brani e l'esecuzione con il violino è stata curata dagli alunni della seconda B del liceo Eschilo di Gela. Sono state esposte durante l'iniziativa opere di Michele Alba e Benedetta Caccamo. Donazione di organi, atto d'amore e fatto culturale è il titolo del convegno che si terrane all'auditorium del liceo classico di Gela lunedì 1 febbraio alle 16 organizzato dal reparto di rianimazione dell'ospedale Vittorio Emanuele. Sono previsti gli interventi del dirigente il professore Giochino Bellitteri di Lucio Antona di Salvatore Benfante Picogna dell'associazione Maestri Cattolici italiani e di Giacomo Giurato neoreferente interprovinciale di Adido l'associazione italiana donatori di organi e tessuti e presidente anche di Admo associazione donatori di midollo osseo e promotore a Gela della nascita del polo di reclutamento donatori di midollo osseo. Hanno assicurato la loro presenza Luciano Fiorella direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele il direttore generale dell'ASP2 di Calzani Setta Carmelo Iacono il sindaco di Gela Domenico Messinese L'ospedale speciale che attirerà maggiormente l'attenzione dei presenti sarà Mr. Reginald Green il papà di Nicholas Green il piccolo di 7 anni che verse la vita durante una vacanza in Calabria nel 1994 ricordiamo che a seguito di quella tragedia grazie al gesto dei genitori che diedero il consenso alla donazione degli organi ben 7 persone ritrovarono la vita. Appuntamento oggi nell'aula consigliare del comune di Gela con gli alunni del triennio turistico dell'Istituto Tecnico Luigi Sturzo docenti e rappresentanti delle istituzioni una iniziativa che rientra nel percorso formativo al fine di celebrare i 70 anni della Repubblica Italiana e obiettivo della scuola diretta da Grazio Di Bartolo rendere partecipi gli studenti in un momento così importante e quello che si è svolto oggi è soltanto la prima tappa così come riferisce il docente Gianfranco Mancuso è l'incontro con le amministrazioni locali con le autorità locali per comprenderne il funzionamento e le sinergie con la cittadinanza è importante che gli alunni comprendano quello che è il principio di sussidiarietà è il principio che vede protagonisti proprio la società civile per formare adeguatamente in modo positivo i cittadini di Gela l'iniziativa prevede l'incontro con la parte burocratica quindi i dirigenti del comune di Gela e la parte politica quindi l'amministrazione impersonata dal sindaco e da componenti della giunta l'iniziativa stessa avrà un terzo momento che è l'incontro con la parte più rilevante della società civile o più significativa che è l'associazione anti-racket nel mese di febbraio e poi un incontro conclusivo che li vedrà incontrare il prefetto di Caltanissetta a cui abbiamo chiesto già di organizzare questo momento importante l'idea è quello di andare il giorno di avere questo incontro nel giorno del 17 marzo in cui si celebra l'unità d'Italia quindi proprio riscoprire i valori fondanti dell'unità d'Italia e quindi della nostra Repubblica La Croce Azzurra Ollus di Gela ricerca personale Osa infermieri ed addetti di segreteria è personale da dedicare al servizio di ausiliato per informazioni c'è un numero telefonico 334-7423417 lo ripetiamo 334-7423417 ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità seconda parte del telegiornale il Soroptimist Club di Gela bandisce un concorso fotografico dal titolo Le Dune Gela che si è rivolto agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze del territorio le foto inedite dovranno pervenire entro il 15 marzo saranno premiati i primi tre classificati il bando di concorso è consultabile presso tutte le scuole superiori di Gela Open Day oggi nei pressi Santa Maria di Gesù e Benedettine a Gela per offrire alle famiglie dei bambini che il prossimo anno frequenteranno la prima classe l'opportunità di incontrare gli insegnanti di conoscere le metodologie e la didattica applicate durante la giornata di oggi è stato possibile visitare gli ambienti e i laboratori presenti all'interno dell'istituto scolastico il dirigente Angela Tuccio l'Open Day serve a presentare la scuola oltre che al territorio così come normalmente si fa a rendere gli stessi alunni consapevoli dell'importanza dell'apertura della scuola al territorio e renderli partecipi attivamente delle attività scolastiche in questo modo loro diventano i protagonisti e tantissimi progetti portati avanti nella nostra scuola progetti che vanno dai laboratori musicali ai laboratori multimediali ai laboratori di ceramica quest'anno tra l'altro grazie agli insegnanti dell'organico di potenziamento abbiamo potuto attivare una serie numerosa di progetti volti sia al recupero che all'eccellenza dei nostri studenti per cui saranno veramente eseguiti si realizzerà all'interno del terzo circolo veramente la didattica della one to one perché riusciremo a condurre quasi per mano i nostri studenti al successo quindi il terzo circolo come scuola di qualità come scuola che segue gli studenti in tutto il loro processo di crescita ecco perché oggi siamo lieti di accogliere gli studenti in questa i futuri studenti e i genitori per far sì che facciano una scelta consapevole della scuola che porterà i loro figli sicuramente a traguardi importanti ed ora la nostra consueta rubrica quotidiana in breve fino al 31 gennaio prossimo presso il palazzo Ducale è possibile visitare la mostra fotografica in onore di Don Franco Cavallo realizzata da Franco Pardo in collaborazione con Croci a Tardi espongono gli artisti Gina Pardo e Pino Polara la mostra patrocinata dal comune di Gela potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 proseguono gli appuntamenti col grande jazz al teatro comunale Eschilo di Gela venerdì 29 gennaio prossimo andrà in scena Fabio Concato l'inizio dell'evento è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 numero di telefono 093 3911 892 oppure 345 58 80 580 continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel cartellone della 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domenica alle 19 nei locali del palazzo Principessa Pignatelli è previsto il recital del pianista Davide Sciacca Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo C'è la pagina dello spettacolo del cinema in particolar modo è Il Ponte delle Spie il film in programmazione al cine teatro Antidoto di Machidella a Gela sono due gli orari ve li ricordiamo 18.21 e 30 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni a Gela a Gela a Gela a Gela